Nato a Torre Annunziata nel 1872, il servo di Diodor Raffaele Scauda dedicò tutta la sua vita al servizio sacerdotale e alla cura della sua comunità di fedeli. Sin da piccolo sentì crescere la vocazione religiosa, incentivata da una famiglia credente e serena, fino a quando, il 12 ottobre del 1884, indossò per la prima volta l'abito talare. A soli 12 anni, il giovane sacerdote si trovò a dover combattere con forze anticlericali nella sua città, al punto da dover iniziare a celebrare la messa a Torre del Greco, incontrata a Leopardi. Qui fece costruire la prima chiesetta con un altare, sul quale inserì un quadro della Madonna che aveva sottratto alla famiglia. Così sorse la Madonna del Buon Consiglio, che iniziò a crescere grazie all'offerta dei fedeli. Infatti, nella costruzione della chiesa Don Raffaele Scauda ebbe come unico aiuto gli abitanti della città, i quali sacrificavano le proprie ore serali dopo il lavoro, per aiutarlo materialmente a mettere pietra su pietra. L'impegno verso la sua comunità non fu fermato nemmeno dalla Grande Guerra. Costruì un piccolo orfanotrofio accanto alla chiesa, affidato alle sue rei Sant'Antonio ai Monti, che curavano l'educazione religiosa, l'addestramento al lavoro e l'istruzione degli allievi. Per le orfanelle ospitate, Don Raffaele era considerato babbo e nonno. La Seconda Guerra Mondiale mise a dura prova la comunità di Leopardi. Il 15 settembre del 1943 un bombardamento distrusse completamente l'orfanotrofio, mentre rimasero in piedi i muri laterali della chiesa. Con le sue ore e le orfanelle, Don Raffaele dovette nascondersi in una grotta alle falde del Vesuvio, dove rimase finché la Marchese De Cillis accolse tutti nella propria casa. Il 26 maggio 1961 introdusse per la sua comunità la Festa delle Rose, una pioggia di petari sui fedeli che simboleggia la pioggia di grazie della Vergine Maria. Una settimana dopo, il 2 giugno, si alzò per celebrare la Santa Messa anche se respirava fatica. Si spense poche ore dopo. I suoi resti sono ancora oggi conservati nella chiesa che ha costruito, solo grazie alla sua fede. Ad oggi, Don Raffaele Scauda è servo di Dio, ma è stata aperta la pratica avanti al Tribunale di Santi che potrebbe portare alla sua beatificazione.